21.000 euro per completare l'illuminazione in via delle arti e dei mestieri, quindi si continua a lavorare sulla viabilità e ci diceva anche con vietri per illuminazione e cavavietri ci sono passi avanti. Sì, l'illuminazione pubblica delle strade è strettamente legata a una questione di sicurezza, quello è un tratto che da tanti anni è trascurato, il tratto che congiunge praticamente via arte e mestiere e via vitale, aveva bisogno di questa illuminazione e quindi abbiamo fatto un sacrificio e adesso questi pali possono essere messi e illuminiamo quel pezzo di strada. Così come voglio dire alle tante sollecitazioni che mi arrivano per quanto riguarda l'illuminazione del tratto di Molina, che lì siamo in territorio di vietri, quindi la procedura di gara per la scelta del soggetto che deve realizzare questo intervento e tutto il procedimento amministrativo è una competenza degli amici del comune di vietri. Noi per parte nostra abbiamo da un lato fatto in modo che la provincia che è competente anche su quel tratto desse il proprio contributo, il comune di Cava ha dato un proprio contributo economico per cui adesso che si completano le procedure amministrative speriamo di illuminare anche quel pezzo di strada.